Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Skycube Survival Allora, ci sono diverse novità Ho letto dei commenti che c'erano nell'ultimo video E mi hanno detto di, piuttosto che spawnare i due telai mancanti in creative Di fare tre blocchi E questi blocchi dovranno essere di diamante Cioè uno di diamante, uno di oro e uno di ferro Allora, mi sembra molto sensata come cosa Ovviamente è più, è una sfida Cioè perché spawnarli in creative sarebbe stato molto più semplice Ma è meglio così Allora, io ho già dei diamanti Quindi posso farmi già il blocco di diamante e ne servono nove Quindi andremo a craftarci il blocco di diamante E uno l'abbiamo già fatto Poi ne ho sei di pezzi di oro Però ho sette cose di ferro Quindi li metto a cuocere però non avendo carbone No, non ho carbone Devo mettere a cucinare il legno Inoltre mi sono rifatto un po' l'inventario Mi sono preso diversi zuppetti Ho fatto un po' di cibo Mi devo fare anche dei panini che mi sono dimenticato E comunque sono pronto ad affrontare qualsiasi tipo di dungeon Con l'armatura bella in diamante Poi mi sono cucinato pure delle bistecche Quindi siamo pieni 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 zeppi di cibo Ok, allora Io qua ho un lingotto E lì ne sto cucinando sette Quindi ci serve un altro pezzo di ferro E altri tre pezzi d'oro E quindi ora andremo insieme a cercarli E poi oggi andremo ad affrontare Il cubo, quello penultimo Cioè no, aspettate Il terzo ultimo Poi andremo ad affrontare in parte il nether Perché non lo finiremo il nether E basta Precisamente non mi ricordo bene dove c'erano i materiali Lì ho visto due pezzi d'oro Eppure qui alla mia sinistra Ok Abbiamo quindi tutto il ferro che ci serve Ne serve solo un pezzettino Poi prendo un po' di carbone Dato che non ne abbiamo proprio per niente Il carbone è l'unica cosa che ci manca Cioè abbiamo tutto, tutto Però non abbiamo il carbone Quindi prendo questi pezzettini qua E inoltre ho visto qua esattamente Ho visto Uno Due di me che sono tre Ti prego Ok, grandissimo A posto Ce ne servono tre Quindi ora ritorno a casa Li metto a cucinare E appena sono pronti Andiamo a piazzare questi blocchi Mentre aspetto che cucinano Mi crafto così Un cartello E scrivo sopra Gli obiettivi Allora qua c'erano Gli obiettivi Vabbè Lo metto qua Craftare Allora Craftere Craftare Oh madonna Craftare Un blocco In diamante Un blocco Diamante Lo scrivo così Un blocco in ferro F E un blocco Di oro Ok Fa proprio schifo però Chi se ne frega Così tanto perché Stavo aspettando Allora Dovrebbero essere cotti infatti Quindi mi prendo gli altri sei pezzi E possiamo craftarci Sia il blocco in ferro Come potete vedere qua Aspettate eccolo qua In ferro E in oro E in ferro Quindi alla mano Diamante E andiamo a piazzarli Esattamente qua Ok Allora Uno qua Il diamante in centro ovviamente E qui l'oro Quindi ci mancano altri tre delai E noi potremo andare nel dungeon Che c'è di là E quindi finire la mappa Quindi stiamo aggiungendo al termine E inoltre E inoltre Ho già scaricato la nuova mappa Che è una mappa Molto particolare Perché Non è una survival È un Non un parkour Ma più o meno È una rush diciamo Vedrete più avanti Ora andremo Andremo Sì certo Andremo nel cubo Quello Non questo Ma quello lì dietro Io esigo Esigo proprio Che in sto cubo Evita di cadere in acqua Ci sia la cesta Con dentro il telaio Non la cesta E basta La cesta con dentro il telaio Quindi vediamo se qua sotto No Non c'è niente Perché Cioè come fanno gli alberi A Rimanere sulla sabbia Senza Oh 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 raga L'ho beccata Non ci credo Ho beccato la cesta Oddio Minchia Bella Bella Ok C'è pure il telaio dentro A posto A posto Però inoltre qua Quando sono entrato Ho visto un'altra cesta Con dentro 18 biscotti E 8 panini Ok minchia raga Fantastico Io non mi metto neanche a scavare sotto Perché Abbiamo trovato ben due ceste Due ceste Cioè Vi rendete conto? Quindi io ora vado Immediatamente a rimettere a casa Questi due telai Questo telaio E Ci dirigiamo Al cubo del nether Perché Abbiamo visitato tutti ormai Quindi Niente Arrivo fino a là Perché Raga Ci impiego davvero tanto A camminare Susti ponti Cioè È proprio noioso Perché Cioè Il bello è che poi Non c'è nessuno Sono qua Io da solo Fa niente Quindi Di taglio tutto Almeno Non mi ero annoiato Appena è venuto in mente Il fatto che Se andiamo nel cubo del nether E si vede che c'è della lava Nel caso noi cadessimo All'interno della lava Sarebbe un po' un problema E moriremmo Con tutta l'armatura Quindi io mi prendo Mi faccio ben Due secchielli Non uno Perché così possiamo farci pure l'acqua infinita Nel caso che Dovesse essere necessario Io mi faccio Dato che c'è qua Pure una crafting Mi faccio qui la fornace Mi cuocio i miei Sei pezzi in ferro E ci Ci rivediamo immediatamente Cioè immediatamente Tra un attimo Al cubo del nether Prendiamo questi due secchielli d'acqua Così che Evitiamo di morire nella lava Perché È molto molto probabile Dato che si vedono delle colonne enormi Inoltre Se non Guardo Cioè se non vedo Male Ok sì Ci sono dei nether reactor Solamente Che i nether reactor Si possono Come dire Azionare Tramite dei blocchi d'oro Io quelli Non ce li ho E non so come recuperarli Non mi metterò ovviamente A farmare pigmen Dato che Ce ne sono Anche un po' troppi Non sono incazzati con me E questo è già molto buono Che non siano incazzati Invece sì Invece sì Ok Ok Un attimo di calma Perché sono in tre Però fanno molto danno Io non vi ho fatto niente Cioè Perché dovete attaccarmi Se non vi ho fatto niente Non vi vedo Dalla mappa di continents Perché mi dovete far male Ok Piazziamo un attimo L'acqua Così che Riusciamo sia a mantenere le distanze Che Mantenere un po' più sicura la zona Ok muori E' strano E' strano E' strano vederli Nuotare nella lava Perché di solito Muoiono tutti Nella lava A parte loro Allora Ammazzo pure questi due Che poi due non saranno Perché continuano A duplicarsi E infatti Sono già cinque Allora Mi stanno droppando Ok Allora Spacchiamola velocemente Allora No Che la spacca a fare Apriamola Ok c'è il telaio C'è il telaio Non ci credo C'è pure una spada Un picchione in davanti Vabbè Non me ne faccio più di tanto Perché tanto ce li ho già Della glowstone Non serve a niente E del quarzo Beh grazie Che vi devo dire Grazie Allora Evitiamo di morire Direi di andare subito A piazzare il blocco Il telaio Ma forse c'è qualcosa qui Nella glowstone No Ok non c'è niente Scendiamo giù Evitando di farci picchiare Anche se Spero di ristruggerle tutti Vi faccia tutti il culo Uno per uno Brutti pigmen Neanche pigmen Pigmen di merda Allora muori Grazie mille Sembra che ci avesse Il knockback Sulla spada Vero Allora Mangia qualche carotina E mettiamo un po' E si Rendiamo un po' più Sicura la zona Penso che ci siano Degli spawner Perché ok che I pigmen Possono spawnare Dalla netherrack Però non siamo Nel bioma del nether Quindi Non credo che possino Spawnare Perciò Eccolo infatti Mi ha spawnato davanti Per forza Ci deve essere uno spawner Qua sotto E infame Il creatore della mappa Che me l'ha messo sotto la lava Quindi non scavarti sotto i piedi Che cazzo hai fatto Sali su subito Non scavarti mai più sotto i piedi Frodo sei un pirla Quindi spacca lo spawner Che qua sotto Perché ho visto pure Le Le bollicine Sì ciao Ora che Spacco l'ossidiana Vabbè Direi di andarcene Immediatamente via Da sto cubo Via Rush Rush Veloce 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 Ok non so cosa ci sia fuori Spacca la golosan Spacca la golosan Chiudi 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 Ok Siamo Diciamo al sicuro E qua c'è un dungeon Con la porta aperta Cioè mi dice Vieni vieni Entra Stai tranquillo Fatto di ossidiana Quindi non So Cosa ci potrebbe Essere Dentro Ok C'è un Piccolissimo Problema Eh sì Pure il secondo piano Ehi No Piano Fai piano Stavate il gioco di parole Però io sto dungeon L'affronto nel prossimo episodio Bene ragazzi Per questo episodio È tutto Vi ricordo di mettere Un bel mi piace Perché stiamo raggiungendo Il termine della serie Penso che O nel prossimo O tra due episodi Finirà Andremo a affrontare Questo dungeon Che sembra davvero Davvero difficile Piano di spawner E Ci vediamo domani Con un nuovo video Vi ricordo che Forse Farò uscire anche Un primo episodio Della nuova serie Prima che finisca questa E niente Bene ragazzi